Il verbo succedere viene tradotto dal verbo gescheen. Succedere, gescheen. Questo verbo traduce anche i verbi accadere e capitare. Succedere, accadere, capitare, gescheen, gescheen. Questi tre verbi possono essere tradotti anche dal verbo passiran, ma in questa lezione mi occuperò solo del verbo gescheen. Di questo verbo non ha molto senso usare i tempi semplici, ma vengono usati i tempi composti. Mi spiego con un esempio. Non ha molto senso dire io succedo, io capito, ich gesche, oppure tu succedi, tu capiti, du gescheest. Ha più senso infatti usare il participio passato nei tempi composti, in particolare la terza voce dei tempi composti. Ad esempio, è successo. Quindi il participio passato di succedere è successo. Il participio passato di accadere è accaduto. Il participio passato di capitare è capitato. In tedesco si dice gescheen, successo, gescheen. Ora vi faccio un altro esempio usando sempre la terza persona di un tempo composto, in questo caso il passato prossimo. Il passato prossimo va coniugato in questo modo. Io sono successo, tu sei successo, lui è successo, noi siamo successi, eccetera. La terza persona è, lui è successo, oppure lei è successo, oppure esso, egli è successo. Successo, gescheen. È successo. Ist gescheen. Ist gescheen. Mi rivolgo alla mia amica dicendo, non è successo nulla del genere, Brigitte. Nulla del genere, è successo, Brigitte. Nicht dergleichen ist gescheen, Brigitte. È successo, ist gescheen. Vediamo altre frasi. È successo una disgrazia. Una disgrazia è successo. Ein Ungluck ist gescheen. È successo, ist gescheen. Dove le persone si incontrano davvero, e cioè con il cuore, può avvenire una guarigione. Dove si persone autenticamente incontrano, può guarigione succedere. Ci hanno detto svariate volte che dovrà succedere qualcosa, ma finora non è successo nulla. Noi abbiamo, certo così spesso sentito, che qualcosa succederà. Ma è finora niente succeso. Wir haben zwar so oft gehört, dass etwas geschehen würde, doch ist bisla nicht geschehen. Wir haben zwar so oft gehört, dass etwas geschehen würde, doch ist bisla nicht geschehen.